ben trovati scrivania e campo gli argomenti del dopo partita di juventus monza finita con il punteggio di 2 a 1 a favore della juventus che passa così ai quarti di finale in programma molto probabilmente il 2 febbraio alle ore 21 credo si giochi a torino ma queste sono notizie che sapete già e che probabilmente non subiranno delle modifiche queste sono diciamo le indicazioni del cartellone della coppa italia detto questo vi ricordo che si gioca ogni tre giorni praticamente perché poi dopo il turno di coppa italia ci sarà il turno di campionato infrasettimanale ci sarà la europa league contro il nant cioè siamo praticamente a ridosso dei copiosi appuntamenti che riguardano la juventus la partita e diciamo la scrivania la scrivania mi riferisco al cambio in tanti mi stanno domandando io cosa ne penso avete visto che ho fatto un lungo silenzio rispetto alle novità del giorno 18 quando il consiglio di amministrazione ha ratificato i suggerimenti le proposte della exor scontate naturalmente con l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e quindi con il nuovo presidente che è appunto gialluca ferrero il nuovo direttore generale e amministratore delegato che maurizio scanavico praticamente i due non capiscono niente di calcio è bene che noi lo sappiamo e attenzione non stiamo parlando di un andrea agnelli che ha fatto una gavetta nel calcio strepitosa in parallela con i suoi studi e soprattutto molto giovani qui stiamo parlando di due grandissimi professionisti ma che di calcio sanno poco e niente la mia preoccupazione ve lo dico subito è una preoccupazione naturalmente io faccio il tifo per loro perché come vi dicevo l'altra volta io non ho mai anche nei momenti peggiori diciamo contrastato la casa madre sono più umbertiano lo sanno tutti quanti io sono umbertiano però adoravo Gianni Agnelli per cui i vertici della Juventus non si discutono si amano perché loro sono i primi ad amare la Juventus la preoccupazione se non c'è uno di famiglia come nella parentesi una parentesi relativa a come dire con bolli giglio blanco e secco ho la paura che non essendo di famiglia pensano più ai conti che al cuore e nel calcio ci vuole il cuore ci vuole il tifo ci vuole la gioia di vincere non soltanto di fare bene i conti voi mi direte ma anche nella Juventus Giagnana Chiusano era il presidente e Moriperti era l'amministratore delegato il presidente operativo sì siamo d'accordo è vero questo ma era più con il fiato di Gianni Agnelli sulle spalle là c'era il fiato di Gianni Agnelli sulle spalle ed era quella Juventus di cui ci siamo innamorati la Juventus che ci ha proiettato in quel lungo discorso chiamato nostra vita Juventus perché quando ci si innamora poi dei campioni della storia della Juventus della casa madre difficilmente il distacco può avvenire difficilmente questa diciamo questo attaccamento viene tolto da addosso noi ce l'abbiamo sempre addosso siamo Juventini malati di Juventus e quindi inutile dire che che mi suggestiona questo fatto mi emoziona perché quando si parla della Juventus della storia della Juventus vado in tilt praticamente perché non riesco ad essere terzo non riesco ad essere equilibrato anche se rispetto alle accuse c'è un mio equilibrio un mio equilibrio perché parto con la condanna poi mi accorgo che sono delle accuse sempre strumentali e quindi torno sui miei passi mi vado a leggere e a rileggere quello che dicono contro la Juve e mi accorgo che sono soltanto accuse strumentali è capitato sempre così è sempre così dal campo alle intercettazioni alle accuse sui bilanci perché loro partono dal campo e quindi partono dall'arbitro venduto alla Juventus dalle macchine all'arbitro negli anni 70 degli anni 80 si compra gli arbitri un'altra volta si compra le movioli poi si scopre che le movioli erano contro la Juventus quindi si compra i giornalisti poi comincia a fare le intercettazioni e si scopre che dalle intercettazioni volevano far vincere lo scudetto al Milan ma le intercettazioni le maneggia l'Inter insomma hanno fatto di tutti i colori e più sta squadra l'attaccano e più ci attacchiamo a lei perché è così perché a un figlio quando gli fanno un torto te lo abbracci più forte gli stai vicino questo succede perché noi siamo consapevoli della forza e dello stimolo che ci dà questa squadra e naturalmente soffriamo quando poi vediamo che è allenata da uno come Allegri che davvero con la storia della Juventus non c'entra proprio ma proprio niente e quindi questa squadra di costruzione di impeto di grande impatto a tutti i livelli sia psicologico che tecnico che tattico che virtuale a tutti i livelli ci accorgiamo che è uno come Allegri che è uno preso in mezzo alla strada che se non avesse fatto l'allenatore non avrebbe potuto fare niente e allora qui si dice è lì la pena guardate oggi la Juventus deve difendersi dalle accuse che vengono rivolte attraverso la giustizia sportiva la giustizia ordinaria non sono un problema quelle accuse perché la Juve è pulita lo sappiamo tutti quanti il problema non sono gli eventuali processi ancora nessuno che la Juve andrà a fare i problemi sono relativi ad Allegri alla presenza di Allegri il vero problema della Juventus è Allegri perché poi è il campo quello che ci interessa perché nelle sedi opportune saranno gli uomini deputati a difenderla la Juventus come ha detto appunto il presidente al momento del suo insediamento e qui il problema è Allegri e andiamo appunto al nuovo establishment della Juventus fatto di questi signorotti in senso buono della parola attenzione che dovranno guidare la Juventus che hanno per il momento un contratto triennale a pochi migliaia di euro al mese quindi non è un esborso non arrivano nemmeno a 50.000 euro a testa senza i rimborsi spese però vi ricordo che loro non hanno solo la Juventus la Juventus per ognuno dei cinque del consiglio di amministrazione è soltanto una piccola parte un piccolo incarico non è come Andrea Agnelli e Pavel Neved che stanno l'H24 no loro stanno lì diciamo sulla scrivania uno o due volte alla settimana quello è tutto non c'è una assistenza alla squadra totale questo mi preoccupa ecco perché io spero che al più presto venga nominato un uomo di campo un direttore generale che possa fare scrivania a campo scegliere i suoi uomini e pilotare la squadra perché se noi siamo nelle mani di Cherubini e Allegri siamo inguaiati è altro che la gente si deve avvicinare inguaiati è altro che la gente si deve avvicinare come dice il presidente nuovo la gente deve avvicinarsi ma con uomini anche di un certo spessore mica ci si può presentare con un frontman di Cherubini e Allegri con tutto il rispetto per Cherubini nessun rispetto per Allegri che io non ho rispetto di uno che si prende 9 milioni al mese per non dare niente alla Juventus e per distruggerla allora io spero auspico che al più presto ci sia un nuovo una bandiera che possa che possa guidare la Juventus non so se sarà del Piero non sarà del Piero ma spero che chiunque possa essere possa prendere subito le rendere in mano della Juventus perché i vertici attuali sono dei tecnici cioè di calcio sanno poco e niente se gli portano da firmare un contratto di un certo tipo non sanno se firmarlo o meno perché non conoscono i calciatori quindi io credo che nelle prossime ore nei prossimi giorni qualche cosa faranno qualche nome daranno ora ci sono troppe partite che incombano il Monza per la fine della partita l'Atalanta poi ancora il Monza e poi il calciomercato che comunque qualcosa bisogna fare credo e poi c'è questa dannata situazione legata all'allenatore per chiudere il discorso relativo all'establishment io mi aspettavo che si presentavano con un allenatore nuovo lo dico non ci speravo e infatti non lo hanno fatto dovevano dare la discontinuità non c'è la discontinuità e questo mi fa pensare con la presenza di Allegra Agnelli in tribuna contro il Monza che la squadra è ancora diciamo così ancorata a non è passata totalmente nelle mani dei Giagnani se c'era Allegra la mamma di Andrea perché solitamente Allegra non va allo stadio quando la squadra non è in mano agli Umbertiani sembra un dettaglio ma non è un dettaglio questo allora io cosa penso penso che quando vedo Ferrero Scaravigo e tutti gli altri me li abbraccerei gli direi benvenuti ci mancherebbe altro è il minimo è il presidente della Juventus è l'amministratore delegato della Juventus però ho paura di un cobolli gigibis e questo mi fa paura fare meglio di Agnelli è difficilissimo è impossibile è una squadra che è già nell'Olimpo del calcio e dello sport mondiale la Juventus di Andrea Agnelli è già ha già una sua statua nell'Olimpo nella gloria del mondo per come l'ha portata per dove l'ha portata questo giovane presidente però oggi ci sono questi personaggi che rappresentano la Juventus e io me li abbraccio diciamo con con affetto sperando di non doverli criticare perché è naturale che se sbagliano io lo critico come abbiamo criticato Andrea Agnelli soprattutto quando ha cacciato Sarri che è stato il peccato originale della discesa di Andrea Agnelli quando ha preso Pirlo uno degli atti più gravi l'arrivo di Pirlo è ancora più grave dell'Allegri Bis immaginate un po' io che cosa penso di Pirlo e poi l'Allegri Bis che è stata una catastrofe proprio una rovina una rovina mai vista però la Juventus è nell'impo del calcio perché è lì che le ha sistemate Andrea Agnelli l'ha presa con i conti in disordine con due settimi posti arrivava dalla Serie B e l'ha portata ad essere nell'impo del calcio mondiale quindi tutto questo non va mai disconosciuto ed è difficile è stato come il nuovo presidente come il Ratzinger dopo Uetila facendo naturalmente le dovute proporzioni le dovute differenze lì stiamo parlando del massimo della chiesa e qui stiamo parlando di un club di calcio anche se non tanto normale come la Juventus perché la Juventus è soltanto divinità per quanto mi riguarda ecco non divinità divinità troppo grande ma è venerazione totale e allora però l'affronto è quello fare bene dopo caro Luitiva per chiunque papa venisse era difficile ecco perché io sono stato anche un Ratzingeriano molto fervido io mi sento Ratzingeriano nella religione cattolica proprio perché ha dovuto sopportare e sopperire al grande vuoto lasciato da caro Luitiva ed ecco perché mi sento anche oggi ferreriano perché oggi Gianluca Ferrero va a prendersi un un maloppo grosso di responsabilità perché fare meglio di Andrea Agnelli il big dei presidenti il presidente dei presidenti il più vincente tra i vincenti è molto difficile ecco per questo dico Gianluca Ferrero e tutti i colori che sono arrivati nuovi benvenuti e speriamo che possiate fare il meglio intanto cacciate allegri ma so che non lo farete per il momento però ci scherziamo anche un po' su la partita di Coppa Italia è stata una partita molto molto difficile tra alti e bassi il Monza che gioca bene l'ex juventino Raffaele Palladino la fa giocare molto bene gli ha dato una fisionomia gli ha dato uno spessore tecnico e tattico molto elevato ha una rosa molto limitata come avete potuto ben vedere la Juventus che cosa ha fatto? Ha presentato le seconde linee insieme ai ragazzi della next gen e questo è molto molto grave perché si fa il male di questi ragazzi non si fanno crescere io invece credo che bisogna puntare sui ragazzi della next gen ma collocarli a uno o due alla volta in campo cioè farli giocare all'interno della squadra titolare magari in alternativa ai titolari io per esempio su Healing Junior lo vedo titolare Fagioli lo vedo titolare ma messi nel contesto dei titolari cioè diciamo che sono la Juventus dovrebbe avere 22-23 titolari e loro ci sono ma mettele tutti quanti insieme e riproporre ancora Miretti 39 palloni 41 palloni scaricati 36 o meglio 35 agli avversari li vedete la partita e vi faccio vedere questo è un giocatore raccomandato ecco la nuova dirigenza dovrebbe consentire che la questione Miretti non venga più riproposta Miretti è scarso guardate la Juve giocava uno in meno mi arrivarono sul telefonino vista la mia crociata anti-Miretti tantissime email durante la partita hai ragione su Miretti hai visto bene su Miretti Miretti è scarso mi sono arrivato tantissime email sulla posta elettronica sul telefonino ma non è che ci vuole la zingara per vedere che quello è scarso quello è scarso è inutile che ci giriamo intorno e la Juventus come ha giocato la solita Juventus senza né capo né coda che si basa sui singoli devo dire la verità è partita benissimo la squadra con Ealing Junior che era un indiamoniato sulla sinistra l'ho scritto su tutto juve.net potete leggere fra qualche ora vi farò anche le pagelle riprendiamo con le pagelle e praticamente un kin altrettanto stabile post precone però preciso e questo è uno che si gioca dall'inizio segna sempre il gol oggi ne ha segnati due uno gliel'hanno annullato era da annullare però quello lì era da annullare e poi Mekenni che è partito bene e poi è arrivato si è spompato durante la partita però all'inizio la Juve con Ealing Junior va al cross e poi Fagioli sbaglia il gol porta vuoto poco dopo Mekenni invita il gol Kinn colpo di testa appunto di Kinn e gol poi loro pareggiano su un calcio da fermo un calcio d'angolo e la Juve va in barca la partita si legge un po' attacca la Juventus e un po' attacca il Monzo la differenza di classifica non si vede perché quando c'è Allegri sulla panchina anche se era in tribuna la fattispecie non si vede mai nel finale di partita hanno fatto i cambi per carità hanno messo quello Alexandro che è entrato in partita in maniera devastante guardate ha giocato un calcio penoso ha dato una palla verso il calcio d'angolo in orizzontale alla Arthur invece di verticalizzare e poi ha segnato prima a Kinn gli è stato annullato appunto poi ha segnato a Chiesa quel gol meraviglioso uno slalom strepitoso lo trattenevano cercavano di fargli falle lui con una forza prorompente proprio nel suo nella sua proiezione di campo quella nel quale è più ispirato perché lui non è tanto ispirato se lo metti vicino alla bandierina del calcio d'angolo a destra o a sinistra lui è ispirato se gioca negli ultimi 30 metri ma a suo piacimento e così è stato quando ha giocato dietro la punta nella fattispecie Rakhin lo ha fatto in maniera eccezionale e ha fatto quel gol bellissimo che poi ha sbloccato la partita poco dopo la Juventus poteva ancora segnare con quel dannato di Di Maria bello e dannato dobbiamo dire bello come calciatore non come uomo che fa schife bruttissimo a parte questo che si presenta davanti al portiere invece di fare il 3 a 1 intenta un tacco strano da schiaffone per la verità e il portiere para e se il Monza avesse pareggiato bisognava cacciarlo a calci nel sedere però Di Maria rappresenta una grandissima risorsa per questa squadra sperando che lo fa giocare al proprio posto e non dietro le punte non una punta perché non è né un trequartista né una punta come invece interpreta il santone che la Juventus ha in panchina Tal Massimiliano Allegri da Livorno una cosa inguardabile uno schifo di allenatore uno scandalo di allenatore e così la Juventus passa ai quarti di finale della Coppa Italia il minimo indispensabile il minimo sindacale per questa partita e stava anche sfiorando la disfatta diciamolo pure ora affronterà in casa l'Atalanta che è una squadra che ha segnato in due o tre partite tra il campionato e la Coppa mi sembra 12 o 13 gol e quindi è una brutta gatta da pelare sempre l'Atalanta negli ultimi anni si è avvantaggiata molto degli arbitraggi a Torino soprattutto di Doveri e quando arbitra la Juventus come sapete la bastona anche se a Napoli non c'è stato bisogno di Doveri anche se a Napoli il gol del 3 a 1 l'avesse segnato la Juve così oggi ancora staremmo a sentire i napoletani interisti e milanisti a parlare di complotti perché se Maresca ha fatto l'espulsione di Maria a Monza non vedo perché non andava espulso Semen su Locatelli ma nessuno parla nessuno proferisce parola su questa cosa certo io non voglio giustificare la sconvitta ho già molto parlato della sconvitta di Napoli bocciando chiaramente della Juventus e promuovendo nettamente i partenopei però quello è un episodio chiave della partita è un episodio in cui Eusimena andava espulso come è stato espulso di Maria a Monza oppure se non andava espulso di Maria a Monza e andava solo a Monito andava quando meno a Monito fischia il fallo e dà il calcio di riuscire alla Juventus se non prende il 3 a 1 la Juve o mi sbaglio mi ce l'hanno affischiato manco il fallo pensate un po' al contrario cosa succedeva in Italia cosa ci dovevamo sentir dire vabbè ma questo poi è fuffa che sono parole per riempire anche per ricordarlo quindi la Juventus affronta l'Atalanta poi affronterà un'altra volta in Monza in casa questa volta per il campionato intanto vedremo le mosse del nuovo consiglio di amministrazione del nuovo presidente che si è insediato avete sentito Andrea Agnelli si è dimesso anche dal da altri settori della vita diciamo economica e azientale della sua famiglia non lascia naturalmente il suo patrimonio che è grandissimo e quindi si dedicherà ad altro con la libertà di denunciare con la libertà di operare di costruire secondo me ma secondo tanti andrà dritto dritto in Europa a costruire la Superlega è un suo pallino e soprattutto ci crede ha rinunciato a tutto per la Superlega guardate ha rinunciato a LECA ha rinunciato al posto in UEFA ha rinunciato alla Juventus per la Superlega ecco perché credo che il prossimo successo Andrea Agnelli lo porterà dalla Superlega voi dite di no io invece credo di sì grazie per averci seguito per avermi seguito ancora una volta siete tantissimi state crescendo insieme a me in questa nuova veste diciamo così di fare opinione come quella che sto cercando di fare io in tanti anni di televisione l'ho fatta sto cercando di imporla anche al nostro pubblico a quello che segue qui anche su Youtube una piattaforma che io non conoscevo fino a qualche mese fa e che mi sta appassionando perché mi consente di dire tante cose di fare tante cose ma anche di poter essere diciamo libero di esternare le mie opinioni come voglio intanto vi invito ad iscrivervi al mio canale Youtube Sergio Vessicchio a lasciare un like scusate se ho detto delle cose giuste altrimenti mettete mettete il pollice verso oppure non fate proprio niente commentate se ritenete opportuno farlo sempre in maniera civile sempre mantenendovi in argomento perché in tanti li sto prendendo a calci nel sedere se ne vanno come vengono così se ne vanno o che siano tifosi della Juventus o che siano anti-juventini perché io voglio la correttezza in primo luogo e poi naturalmente i frustrati i frustrati ci sono sempre e sono soprattutto coloro che vivono loro malgrado all'ombra dei successi della Juventus ma questa è la loro condanna grazie a tutti quanti voi per averci seguito appuntamento al prossimo video grazie a tutti i nostri spettatori